puntata speciale di 5 minuti con siamo ospiti oggi infatti del conservatorio di musica umberto giordano di foggia e sono qui in compagnia del direttore ovvero il maestro francesco montaroli grazie per aver accettato il nostro invito per averci ospitato addirittura in questo splendido auditorium mi è parso il punto ideale per poter parlare del conservatorio certo dunque come direbbe qualcuno la prima domanda nasce spontanea come si è organizzato il conservatorio con la didattica in questo periodo beh allora breve cronistoria noi siamo stati chiusi fino a maggio per via del lockdown eccetera eccetera abbiamo riaperto fra i primissimi istituti in Italia il 3 di giugno e abbiamo aperto alla didattica in presenza dal 15 di giugno sempre fra i primi otto credo conservatori in Italia è stata una cosa abbastanza complicata perché abbiamo dovuto crearci dei protocolli di sicurezza basati su quelli dell'Ineil ma personalizzati per quello che è la nostra specificità al momento quindi noi siamo in didattica in presenza per tutte le materie strumentali ed in musica da camera fino a 4-5 studenti quindi sono diciamo lezioni individuali o con pochi studenti e siamo in didattica a distanza per tutti i corsi teorici tipo storia della musica, armonia eccetera eccetera la produzione artistica ne ha risentito però purtroppo la produzione artistica ne ha risentito noi appunto quando abbiamo riaperto abbiamo approfittato dell'invito che ci ha fatto il teatro pubblico pugliese a luglio abbiamo fatto una conferenza di servizio e abbiamo partecipato a una stagione di concerti che hanno organizzato a Lucera nell'anfiteatro è stata una bellissima location diciamo per fare abbiamo fatto tre concerti in quel periodo là poi abbiamo fatto qualcosa con degli studenti, con un ensemble di studenti in settembre sia qui che a Rudi Garganico e poi abbiamo fatto proprio in tempo in tempo il 30 ottobre credo a fare al Teatro Giordano un concerto con l'orchestra del conservatorio e all'epoca si poteva ancora fare perché poi dal 31 ci hanno chiusi e hanno chiuso tutti i teatri quindi però siamo riusciti a fare questo poco rispetto a quello che naturalmente abbiamo sempre fatto lei pensa che abbiamo il 9 di marzo abbiamo chiuso noi il 15 dovevo partire con la stagione dei concerti invernali che si chiamava Musica in Auditorium era già pronto tutto, dovevamo andare in stampa dei programmi abbiamo purtroppo ovviamente non abbiamo fatto a Corti di Capitanata la nostra storica stagione dei concerti che però che tra l'altro fa un compleanno importante quest'anno fa il 25esimo quindi la voglio fare a tutti i costi se ci danno la possibilità anche voglio dire mal che vada la faccio in strada insomma qualche cosa mi devo ho già parlato con il consiglio accademico qualcosa faremo quest'anno quindi possiamo quasi sicuramente in un modo o nell'altro spero proprio speriamo tutti fortemente sì di poterla fare invece la sede di Rodi Garganico come sta attraversando questo periodo? la sede di Rodi Garganico la attraversa nella stessa maniera in cui la stiamo traversando qui a Foggia forse meglio perché sì perché loro diciamo hanno una sede molto grande e hanno meno naturalmente docenti è circa la metà rispetto a Foggia ma hanno una sede veramente magnifica nuova c'ha una ventina d'anni quindi è fatta e della provincia in concessione diciamo al conservatorio e per cui ci sono gli spazi lì ci si può stare veramente con grande tranquillità è una sede molto dinamica ci sono insegnanti molto giovani ci sono i coordinatori miei delegati che sono molto efficienti io diciamo spingo molto tra l'altro domani andrò perché ci vado ogni tanto ovviamente per far sentire la mia presenza in chiusura come vede la riapertura quando ci sarà e speriamo il più presto possibile dei teatri quando ritornerà la possibilità anche di fare concerti secondo lei saremo saremo preparati alla riapertura la desideriamo così tanto che forse io spero che davvero ci sia la corsa ad andare verso le attività è chiaro che appena sarà possibile appunto io credo che la prossima sia Corte di Capitanata a fine giugno io spero che appena possibile diciamo il pubblico sia pure magari in maniera limitata come è stato nel periodo estivo scorso però insomma che ci venga naturalmente a seguire e noi non vediamo l'ora anche perché la nostra didattica è sempre finalizzata al pubblico cioè all'esecuzione in pubblico noi vediamo c'è un ragazzo che si sta esercitando qui sotto però poverino si sta esercitando fa lezione ma non può diciamo fare quello per cui sta studiando cioè esibirsi in pubblico anche piccolo ma comunque esibirsi in pubblico bene grazie direttore e noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di 5 minuti con grazie per essere stati con noi grazie a tutti grazie a tutti Autore dei sorrisi